Ciao a tutti, oggi prepariamo la crostata con marmellata di albicotte che in inglese non conosco il nome, quindi mi puoi aiutare nei commenti ho cercato di trovare il nome e mettere questo nome nel titolo ma ora vediamo i ingredienti e ora possiamo farlo 300 grammi di albicotte, 150 grammi di zucchero, 150 grammi di zucchero un olio più un olio, la pelle di un limone e un po' di salto prima di tutto mischiamo il zucchero, il zucchero e il zucchero insieme dopo aggiungiamo il zucchero, la pelle di un limone e l'occhio e lavoriamo la crostata molto bene le ricerche sono un po' di fuoco ci sono un po' di fuoco per l'acqua Grazie a tutti. Now we put our dough on the fridge for 20-30 minutes. After 20 minutes we put some flour on the table and now we smash our dough. It should be thick no more than half a centimeter. Sorry for the video. I have left too much time the dough on the table. When you make it home don't worry you are not making the video. So you smash the dough and you put directly in the pot where you have already put the butter with the flour. But don't worry now we will find the solution. Now we put the jam or the marmalade. And after with this dough we complete our cake. I will use the homemade. And then we put it on the plate. And then we put it on the plate. And then we put the top to the kiss. And we put our dough on the plate. Now we are going to put the flour on the plate. And if we want to pin it in the plate. Now we are going to put the flour on the plate. So this will be finished. And we can put the flour on the plate. Ora mettiamo in l'ovno pre-sciutato a 180 gradi di gradazione per 30 gradi 40 minuti, guardate attenzione, quando il colore inizia a diventare scuro puoi rimuovirlo, guardate attenzione. Dopo 32 minuti a 180 gradi di gradazione, il nostro cuore è pronto, ora dovremmo aspettare che diventa caldo, ora è troppo caldo e dopo lo testiamo. Molto spettacolo! Ok ragazzi, ci vediamo la prossima volta, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di guardare gli altri video. Ciao ciao! Grazie a Luca e a Simona per la cucina. Ciao ciao! 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 Ciao!